Ciao ragazzi, oggi come promesso parliamo di minimalismo nelle attività outdoor voglio parlarvi di questa cosa non perché senta di avere la verità in tasca ma perché il minimalismo mi affascina molto mi sto decisamente muovendo in quella direzione sto riscontrando dei benefici e quindi voglio farvi partecipi delle mie riflessioni magari possono essere utili a qualcuno tempo fa vi avevo già anticipato qualcosa in un video avevamo fatto qualche esempio di oggetti che possono tranquillamente essere tolti dallo zaino senza sentirne troppo la mancanza nell'ottica di viaggiare più leggeri e più comodi oggi vi spiegherò che cosa si intende per minimalismo e perché adottare questa filosofia, questo modo di ragionare può essere una buona idea prima di andare avanti ragazzi voglio spendere qualche minuto per parlarvi del corso di orientamento di Avventurosamente Avventurosamente è una delle community dedicate alla vita all'aria aperta più longeve e prolifiche che abbiamo in Italia è un forum che unisce amanti dell'escursionismo del bushcraft, della sopravvivenza e in generale di tutto quello che ha a che fare con l'outdoor lo scopo della piattaforma è sempre stato tra le altre cose la formazione dell'escursionista e dell'amante della natura per questo a partire dal 2020 lo staff ha cominciato a lavorare a una sezione specifica del sito dedicata ai corsi online di recente è stato lanciato il primo corso di orientamento e topografia che comprende 33 video lezioni per un totale di 16 ore di contenuti i ragazzi mi hanno offerto la possibilità di seguire il corso in maniera totalmente gratuita affinché potessi dargli un feedback ed eventualmente proporlo anche a voi ci ho messo diversi mesi a finirlo, me la sono presa abbastanza comoda perché volevo avere tutto il tempo di esaminare il corso con calma ma devo dire di essere rimasto veramente soddisfatto sul sito di avventurosamente che vi linko qui sotto in descrizione trovate la mia recensione completa adesso velocemente proprio in 30 secondi voglio dirvi che cos'è che mi è piaciuto di questo corso e quali sono i motivi per cui secondo me vale la pena acquistarlo l'orientamento e la topografia sono argomenti importantissimi per chiunque ami passare del tempo in natura perché consentono di assumere piena consapevolezza dell'ambiente in cui ci si muove ecco in questo corso c'è tutto dall'orientamento con metodi naturali alla cartografia all'uso del gps una piccola miniera d'oro di informazioni sistemate in maniera ordinata e fruibili quante volte volete non è una roba improvvisata ragazzi da videomaker vi dico che qui hanno fatto un lavoro spaventoso di scrittura di riprese, di editing le spiegazioni da parte di Andrea e Marco sono molto chiare anche nel caso di argomenti che sono oggettivamente complessi ci sono disegni, tabelle, grafici a sostegno delle spiegazioni ci sono 200 slide comprese che potete scaricare insomma tutto quello che serve per crearvi una piccola cultura sull'argomento quando ero negli scout studiai tanta topografia ci esercitavamo spesso poi negli anni ho dimenticato quasi tutto ho tenuto a mente solo quelle 3 o 4 nozioni che utilizzo più di frequente ecco questo corso è stato così coinvolgente che ha riacceso il mio interesse verso la materia e mi ha fatto veramente venire voglia di mettermi lì con la bussola, con la cartina, con la carta millimetrata con la matita, col goniometro a fare punti sulla carta o percorsi rettificati se siete dei seri appassionati ragazzi secondo me è un corso che va preso senza pensarci due volte anche in virtù del fatto che il costo secondo me è inferiore alla media di mercato ed è comunque basso rispetto a tutto ciò che viene offerto dettaglio non trascurabile è che i ragazzi di avventurosamente mi hanno offerto una piccola percentuale su ogni acquisto ciò significa che se voi acquisterete il corso attraverso il mio link che trovate in descrizione mi verrà riconosciuta una piccola percentuale e quindi è come se acquistando il corso faceste contemporaneamente anche una piccola donazione al canale meglio di così direi che non si poteva fare prendete il corso ragazzi provatelo e ovviamente fatemi sapere come vi siete trovate fatemi sapere se vi ho dato un consiglio utile e adesso noi ritorniamo al video più oggetti possediamo più aumenta la nostra ansia perché quegli oggetti è come se diventassero un'estensione di noi stessi dobbiamo prendercene cura evitare che si rovinino dobbiamo trovare dello spazio per riporli dobbiamo pulirli dobbiamo fargli una manutenzione periodica in poche parole dobbiamo dedicargli tempo ed energie per minimalismo si intende in generale fare a meno degli oggetti inutili con l'obiettivo di semplificare la propria vita essere minimalisti nel campo delle attività outdoor significa quindi acquistare e portare con sé quando si esce in natura solamente gli oggetti necessari quelli che andremo effettivamente ad usare e quelli che possono veramente esserci utili in caso di emergenza prima di discutere i benefici di questa pratica facciamo chiarezza su alcuni punti essere minimalisti non significa ovviamente avventurarsi in luoghi remoti senza equipaggiamento o con un equipaggiamento incompleto esistono delle dotazioni minime che servono a garantire comfort e sicurezza che non devono mai mancare nello zaino essere minimalisti significa possedere pochi oggetti non significa spendere poco se ho un armadio strapieno di roba inutile o se vado in giro con uno zaino pieno di roba inutile poco importa che si tratti di un equipaggiamento economico rimane comunque roba inutile e quello che all'apparenza sembra essere un risparmio in realtà non lo è essere minimalisti non significa andare in giro con l'equipaggiamento della prima guerra mondiale quella è un'altra cosa potremmo chiamarlo non lo so bushcraft rievocativo minimalismo tecnologico adesso sto buttando noi a caso ragazzi il punto è che non stiamo parlando del costo o del livello tecnologico degli oggetti stiamo parlando della loro effettiva utilità non so se riesco a spiegarmi ora voi direte ma perché dovrei privarmi degli oggetti perché non dovrei comprare le cose che mi piacciono e che mi rendono felice la vita è già tanto amara mi conciato un regalo ogni tanto non dico che acquistare non sia bello e non renda felici figuriamoci il problema è che si tratta purtroppo di una felicità momentanea tempo qualche giorno il nuovo acquisto finisce nel marasma dell'armadio e siamo punte a capo secondo me la felicità sta in altre cose in cose che non si possono comprare col denaro una bella passeggiata nel bosco il profumo del muschio della resina la soddisfazione di aver scalato una montagna di aver completato un trekking in solitaria la vista di un tramonto non lo so continuate voi tutta sta roba è gratis perché non apprezzo mentre gli oggetti sono solo oggetti è interessante andare a delencare un po' di motivi che ci spingono a fare acquisti inutili uno l'abbiamo appena detto è la gratificazione istantanea altro motivo è il desiderio di compiacere gli altri di far vedere che io sono il tipo di persona che utilizza quell'oggetto se seguito un po' la scena italiana del bushcraft e della sopravvivenza sicuramente vi ricorderete che negli ultimi dieci anni ci sono state diverse mode passeggere chiamiamole una veramente clamorosa è stata quella dei coltelli cinesi della Ganzo c'è stato un periodo circa cinque o sei anni fa se non ricordo male che avevano tutti il coltello chiudibile della Ganzo tutti impazzavano gli acquisti su Gearbest alla fine ce l'ho avuto pure io sto cavolo di Ganzo perché mi hanno detto lo vuoi che te lo mandiamo e vabbè mandamelo ero curioso di vedere che cavolo ce l'aveva di speciale sto coltello che ce l'avevano tutti vabbè era un coltello normale ora vabbè non voglio star qui a dilungarmi con gli esempi c'è stato che ne so il successivo periodo delle Cuxa c'è stato il periodo delle tende la V non sto dicendo che tutti questi oggetti siano inutili a prescindere sto dicendo che molto probabilmente tanta gente li ha comprati solamente per sentirsi parte della community e non perché gli servissero veramente un altro motivo che mi viene in mente che spinge le persone a portare con sé oggetti inutili è il senso di sicurezza dato dagli oggetti stessi ho notato che molto spesso chi si approccia al mondo dell'attività all'aria aperta lo fa portandosi appresso tutta una serie di paure hanno paura di farsi male hanno paura di perdersi hanno paura di stare scomodi hanno paura di bagnarsi perché piove hanno paura degli animali raga voi non avete idea di quanta gente ancora mi scrive per chiedermi come faccio a difendermi dagli animali selvatici come risolvo il problema degli animali e io in tutta resta non rispondo più perché non so più quali parole usare per fargli capire che non esiste nessun problema degli animali non voglio dire che queste paure non siano normali non siano legittime per una persona che non ha mai messo piede nel bosco e non voglio prendere sotto gamba i pericoli dell'ambiente naturale ma il fatto è che non è riempiendosi di oggetti che si superano le paure o che si esce vivi da una situazione di emergenza serve una buona forma fisica serve esperienza serve un'adeguata preparazione tecnica se non avete anche queste robe qui con gli oggetti purtroppo non ci fate nulla arrivati a questo punto devo sbrigarmi perché tra un po' fa buio dopo aver chiarito che cosa si intende per minimalismo e quali sono i motivi che ci spingono a rifugiarci negli oggetti proviamo invece a vedere quali possono essere i vantaggi del diventare minimal tanto per cominciare uno zaino più leggero il che significa minore fatica più comfort durante il trekking minore probabilità di infortunarsi e magari la possibilità di percorrere più chilometri c'è da dire che uno zaino minimal non è necessariamente uno zaino ultraleggero se i miei oggetti essenziali sono oggetti pesanti avrò comunque uno zaino che ha un certo peso ma sicuramente più leggero dello zaino che avevo prima di fare il decluttering si chiama ossia la selezione e la rimozione di tutta la roba inutile altro vantaggio di adottare un approccio minimal è sicuramente il risparmio evitando di acquistare oggetti inutili che poi finiscono sepolti nell'armadio si può risparmiare molto denaro che può eventualmente essere investito per l'acquisto di equipaggiamento di qualità da tenere per tutta la vita immaginate di avere un budget di 1000 euro e di dover comprare 20 oggetti sono 50 euro ad oggetto se vi accorgete che gli oggetti di cui avete veramente bisogno sono in realtà 10 avrete a disposizione 100 euro da investire in ogni oggetto esattamente il doppio altro vantaggio da non sottovalutare del minimalismo è che si guadagna un sacco di spazio in casa se ho una valanga di attrezzatura ti può anche trovare lo spazio per metterla e quindi intasare gli armati intasare il garage comprare eventualmente altri mobili altre scaffalature quindi oggetti portano ad altri oggetti una casa zeppa di roba è difficile da tenere in ordine e richiede un sacco di tempo per le pulizie tempo che potrebbe essere investito per fare qualcosa di molto più stimolante l'ultimo vantaggio che voglio segnalarvi è quello relativo alla riduzione dei consumi e alla sostenibilità la scienza ci dice che il pianeta è al collasso e che per evitare altre catastrofi oltre a quelle che si stanno già verificando e che sono sotto gli occhi di tutti bisogna consumare di meno meno acqua meno cibo meno energia e ovviamente meno oggetti ridurre i propri consumi significa secondo me non solo acquistare solamente il necessario ma anche acquistare prodotti di qualità che durino nel tempo e che non vadano cambiati frequentemente perché si usurano o perché si rompono vi faccio un esempio al volo perché è una roba abbastanza recente che ho provato sulla mia pelle lo vedete questo faretto led che mi serve per illuminare le mie riprese l'ho comprato un anno fa pagato 25 euro e già non funziona più non è che sia rotto del tutto ma la batteria già non dura più niente e la manopola a cui dietro non fa più lo scatto quindi alla minima vibrazione mi si accende zanzare mi si accende da solo nello zaino e quando mi serve lo trovo scarico sono stato quindi costretto a comprare quest'altro faretto led che costa 100 euro che non darà mai gli stessi problemi perché è costruito diversamente e che durerà molto ma molto di più adesso lo accendo perché vedo che già non gliela fa più a metà fuoco ok quasi è molto meglio andando a tirare le somme qual è stato il risultato del mio acquisto economico che ho speso di più perché per non spendere subito 100 euro ne ho spesi 125 dopo che ho perso tempo perché a distanza di solamente di un anno mi sono dovuto rimettere su internet a fare delle ricerche a cercare un faretto led valido che ho consumato ho prodotto spazzatura elettronica che andrà a finire probabilmente in qualche discarica in un paese del terzo mondo avvelenando le falde acquifere con i suoi metalli pesanti e questa è la cosa peggiore è meglio che non ci penso perché se no sta cosa mi leva il sonno ora io non sono completamente scemo sono scemo solo al 40% diciamo quindi ho imparato la lezione e ho comprato questo ma conosco persone che avrebbero ricomprato il faretto da 25 euro e sapete perché? perché loro con 100 euro dove sta? di questi qui si accende da solo di questi qui con 100 euro loro ne comprano 4 e pensano di fottere il sistema in questo modo quando in realtà è il sistema che fotte loro perché in 4 anni avranno pure speso quanto me ma hanno consumato il quadruplo ammesso che questo qui duri 4 anni ma secondo me durerà molto di più quindi adesso ci diamo un attimo una calmata questo cosa si accende da solo vabbè mi metto mi metto il secondo led quindi ragazzi per riassumere il minimalismo consiste nel liberarsi degli oggetti inutili e superflui in cambio si ottiene una vita più serena meno distrazioni più spazio più soldi in tasca e si dà una piccola mano al pianeta torniamo un attimo al mondo dell'outdoor e al nostro zaino da trekking da bushcraft quello che volete togliere pezzi dell'equipaggiamento può non essere così semplice non è di fatto così semplice la capacità di rinunciare agli oggetti è direttamente proporzionale all'esperienza e alle skills il famoso the more you know the less you carry dicevo mi sono pure scaricata la batteria nel frattempo e mi si stanno a mangiare le zanzare che la capacità di rinunciare agli oggetti è direttamente proporzionale all'esperienza alle skills e alla capacità di adattamento a quanto si è disposti a rinunciare alle comodità in favore di uno zaino più leggero esistono diversi gradi di minimalismo col tempo e con l'esperienza capirete qual è quello che si adatta di più alla vostra persona se siete dei principianti cominciate in maniera semplice fate una cernita di tutta la vostra attrezzatura e date via quello che sicuramente non utilizzate più di recente ho fatto un decluttering abbastanza spinto ho dato via a poco prezzo un sacco di attrezzatura e devo dire che è stato bello mi sono sentito leggero mi sono sentito libero e sono stato anche contento di darla a persone che sicuramente ne faranno buon uso quando state lì per acquistare qualcosa magari fermatevi aspettate qualche giorno fate sbollire la sindrome da shopping compulsivo e cercare di capire se è una cosa che vi serve veramente o se la stavate acquistando solamente per gratificazione istantanea o per compiacere qualcuno ragazzi sono contento di essere riuscito finalmente a parlarvi di questa cosa perché è un argomento che mi appassiona come al solito si è fatto buio quindi adesso me ne vado a casa voi fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate io vi ringrazio per avermi seguito anche questa volta e ci vediamo in un prossimo video